Da parte delle opposizioni, quella contro il Project Financing per il nuovo ospedale di Chieti sta assumendo i contorni di una crociata. Sia il Movimento 5 Stelle che Forza Italia, infatti, insistono sulla inefficacia e sugli errori contenuti nelle carte della Maltauro che ha presentato alla Regione il progetto di finanza. I grillini con Sara Marcozzi sottolineano come il Ruppe e l'ANAC abbiano già sollevato dubbi sul progetto, bocciature a cui si aggiunge, continua il capogruppo dei 5 Stelle, quella dell'esperto nominato dalla ASL, la professoressa Veronica Vecchi, direttore della formazione executive del MISB dell'Università Bocconi di Milano. La Marcozzi, in una nota, sottolinea come siano stati persi tre anni di tempo ponendo l'accento sull'arroganza del governo regionale sordo alle criticità evidenziate. Forza Italia, come Orofebbo, attacca invece portando in primo piano il parere negativo al project dei capi di partimento dell'ospedale clinicizzato di Colle dell'Ara. Per gli azzurri il nuovo ospedale non tiene conto delle reali esigenze di pazienti ed operatori sanitari. Ben 12 responsabili WOC, cioè unità complessa, quindi capi di partimento, sono intervenuti ridicolizzando il progetto in termini sanitari, in termini di costi economici e finanziari, in termini di costo servizi, in termini proprio di ingegneria sanitaria. Questo è un progetto che è stato fatto, credo, forse pensando ad altro, non tenendo conto di quelle che sono la reale situazione dell'ospedale di Chieti. Per esempio sono sbagliati i posti letto, anziché 498, non tengono conto che ne sono 404, per cui chiedono cifre superiori a quelle che dovrebbero chiedere. C'è il servizio di radiologia che oggi costa 2 milioni e 2, loro sparano 7 milioni e 7, quindi insomma ci sono relazioni che veramente gridano vendetta. Io mi auguro che a questo punto ci si fermi con tre anni di ritardo e si dica va bene, accantoniamo questa sceneggiata.